Il 19 luglio del 2022, praticamente un anno fa, venne rilasciato questo gioco indie di cui mi sono innamorato follemente sin dal primo trailer. Lo avrete sicuramente letto dal titolo, ma sto parlando di Stray, gioco in cui il protagonista è un bellissimo gatto color Garfield. Non appena è stata annunciata la data di pubblicazione ho detto Oh che bello, questo me lo gioco al day one, quindi l'ho preordinato e poi non l'ho toccato fino a un paio di settimane fa quando ho finalmente deciso di giocarlo in live sul mio canale Twitch. Canale dove tra parentesi mi trovate live tutti quanti giorni da lunedì al venerdì a partire dalle ore 7. Mi raccomando lasciate like a questo video e iscrivetevi al canale perché pian piano stiamo arrivando ai 500.000 iscritti e ora mettetevi comodi e godetevi l'avventura di questo splendido micione. Signori, possiamo cominciare Stray. Non ho la più pallida idea di cosa parli questo gioco, so solo che il protagonista è un miciotto molto carino per giunta. Gatti, belli gatti. Non mi guardare con quegli occhi assatanati, ti prego. Voi non avete idea di quanta ansia mi facciano i miei gatti, quella pirletta laggiù e sua sorella, quando di notte tu ti alzi perché devi andare in bagno e vedi nel bel mezzo del buio della stanza proprio due palline illuminate. Maledetti gatti. Ciao Fra. Ma Fra, no, no, scusa, scusa, scusa. Ah, ma proprio se hai rompiballe antipatico con tutti, vedo. E sei comunque un sottone, ti fai mettere sotto da tutti. Ah, ok, ma non è semplicemente un drop-off gigantesco. Dentro le mura. Cosa significa dentro le mura? Dobbiamo anche uscire dalle... Ma perché non possiamo stare qua a cillare e basta tutto il tempo? Posso farmi le unghie? Oh, sì, ti prego. Guarda, Camar, dovresti farlo anche tu. Esiste una cosa chiamata tiragraffi. Dovresti fartela anche tu sul tiragraffi, Camar. Non sulla mia sedia, non sul divanetto. No, voi siete scemi. Dopo voi siete tutti scemi. Io non ci salto là. Maro. Qua qualcuno ci fa una brutta fine. Bravo, Franco. Bravo, scolapasta. Oh, no, Gwendalina. Maple! No, frate. Tutto rotto. Amore, ti miagolano da su. Adesso li ritroviamo, gli amici. Ma si è ronta anche una zampina. Qualcuno vero che arriva e mi salva? E perché quel sacchetto di immondizia si muove? Mi disturba. Cos'erano quei robi? Questa è la porta sotto cui sono passati quegli esseri. Che faccio? Vado anch'io. È per forza. Non vedo altra alternativa. Hello? Ora siamo all'interno della città. La città morta per giunta. No, no, no. Non spiegatemi niente di sto gioco. Voglio scoprirlo da solo. Come ad esempio voglio scoprire perché qui ci sia un essere umano completamente morto, disteso a terra. Ah, non è un essere umano. È un manichino. E vabbè però. Cos'è che ci dovrebbe essere scritto? Ciappelup. Ciappelup? Con quale sfiga sono rimaste illuminate soltanto quelle quattro lettere? A meno che non sia voluto. Follow me. Jesus. Però cioè io sono un gatto, non dovrei sapere cosa c'è scritto qui. Salve telecamera. Come stas? Oh sì, fammi fare il gatto. Momento gatto. O magari neanche deve essere fatta sta cosa, però mi diverte. Quindi lo faccio. Tiè, alla facciazza tua. Aha. Fra mi son cagato. Non dovevi farlo mai. Uh, aspetta. Spinge ancora. Che si rompe il vetro. Classicone. E ora scendi giù. Sei troppo intelligente come gatto. Io di essere umano non ce l'ho mica arrivata a sta cosa. Attento al vetro. Ci sono dei puzzle. Però finora mi sembra qualcosa di fattibile. Che carino. Ma voi cosa minchia siete? E tu soprattutto? Cosa sei, Fra? Ah, Fra io fugo. Ciao, è stato bello. Un gatto sarebbe scappato da qua e basta. Mi ha fatto la presa del dito Uxie. L'ha ucciso. Fra tu sei proprio morto, morto. Ma pure senza gambe e senza un braccio. Continuiamo a inseguire quel coso. Oh, mezzo di me. Oh, qua ti attaccano. Attento. Ti sta intendendo un'imboscata, Maple. Oh boy. Scappa, scappa, scappa. Marò. Un vero momento a Plague Tale quando devi fuggire dai topi che stanno per invadere tutta quanta la cittadina in cui ti trovi. Corri. Via. Ma sono dei parassiti. Mi suggono la vita. Via delle chiappe. Salta. Salta che loro non ti prendono. Sono stupidi. Marò, che ansia. Eh, immagino che tu ci abbia prurito. Fra, dobbiamo anche pulirci ora. Sì, ma a me viene l'ansia se i biagolo si scendono degli schermi che mi dicono di seguire le frecce. Questa è una foto di un androide. Interessante. Spingi giù la sedia. Fanculo a questa sedia in particolare. Tie. Alla faccia tua. E sai una cosa? Anche a te. Tie. Questo sgabello invece è uno sgabello incollato al terreno. Ok. Pronti a far volare la bottiglia? Butter flip incredibile. Vabbè. Comunque siamo arrivati nell'appartamento. Oh, posso farmi le unghie qua? Bastardo sul tappeto persiano. Maledetto. Tu lo sai quanto l'han pagato sto tappeto i proprietari? Marò, poveracci. Ora è tutto quanto graffiato da un gatto. Oh, ale. E' bello essere gatti. Anche io voglio fare il gatto nella prossima vita. Che è il laboratorio del professor Turum. Allora, aspetta. Gioco sbagliato. Oh, no. Devo collegare cose. Vabbè. Comunque qua abbiamo una capsula di energia. E la infiliamo qua. Sì, però non puoi essere così intelligente. Io ripeto. E' un gatto, cazzo. Poi riprova qua. Cacciala qui. L'ultimo pezzo si troverà. Ah, non l'avevo neanche visto. Attacca qua. Ho attaccato tutto, Broschi. E cos'è quel cacchio di simbolo? Oh boy. C'è un androide. C'è uno di quei maledetti manichini. Ovviamente ti salta in testa. Potrei averlo decapitato. Ma facciamo finta di non aver visto niente, vero? Cos'è sta roba? Devo inserirlo là dentro? E per quale ragione? Ma soprattutto come fa un gatto a capire queste cose? Piazzalo qua. Cosa è tipo Morph del pianeta del tesoro? È lo B12. Ciao, signor Vitamina. Giustamente. Melalo, melalo. Melalo ancora. Picchia, picchia. Ha funzionato. Sono libero. Grazie. Non mi aspettavo che parlasse. Quasi non credevo alle telecamere. Un gatto nella città morta. Io non ricordo il mio nome. A quanto pare la mia memoria è danneggiata. Sono rimasto intrappolato nella rete elettrica per troppo tempo. So di aver lavorato per uno scienziato che viveva qui, però. Per adesso puoi chiamarmi B12. Così come c'è scritto al mio esterno. A girarsi per la città morta è pericoloso, ma hai l'idea di uno che sa come gestirsi. Io. Alla grande, proprio. Questo dovrei indossarlo. Ah, mi sa che era pensato per... Mi piace che abbiano pensato sto dettaglio. Che se un gatto metti qualcosa addosso, questo cammina così per il fastidio. Questo zaino è stato progettato per i piccoli quadrupedi come te. Ah, non preoccuparti. Ti ci abituerai. Let's go! Che faccia da scemo che c'hai però, Fra. Fatelo dire. Bucket of cut. Nuovo oggetto aggiunto a Minecraft. Addio secchio! Non possiamo mai più tornare indietro, quindi. Aspetta. Ricordo l'oltre. Fra, ma questo qua è attacco on titan. Ho la sensazione di esserci già stato. È da lì che provieni. È a questa cartolina che si ispira il murale. Prendiamola. Ma fatti i cazzi tuoi. Perché ho questi ricordi? Come sono arrivati fin qua? Proseguiamo. Ok, vitamina. Area protetta. Io non so se me la sento, eh, ad andare in qua. Però devo. Oh, oh, oh. Che cazzo è sta roba land? Ah! Vitamina! Potevi dirmelo prima a testa di cazzo? C'è gente viva. I bassi fondi. Fra. Siamo nel quartiere brutto. Siamo nella Noc Nahini di questo universo. Siamo nella pilastro streiese. Oh, no, tranquillo bro. No, no, no. Oh, oh. Giustamente l'android è scappato da me perché è convinto che io sia uno di quei cosi. E quei cosi gli suggono la vita e li ammazzano. Ma quindi c'è la gente in questa zona? Ah, ah. Hanno tipo una casa sicura. Ok. No, non ditemi che devo combattere ora. Io sono un amico. Questo mi attacca. Questo mi tira una boncata in testa che a metà basta. Bro, che lingua mi stai parlando? Si direbbe che abbiano un linguaggio tutto loro. Tu non sei uno, Zurk. Sei il benvenuto nel nostro villaggio. Purché non mangi nessuno di noi. Grazie. Molto gentile, frate. Hai l'aria smarrita. Di cosa hai bisogno? Una foto dell'oltre. Ridicolo. Che st'ascensore non è in funzione. Lo sanno tutti che è impossibile uscire da qui. Beh, tutti tranne gli oltreggiosi. Solo che sono tutti scomparsi, a eccezione di Momo. Per provare a parlargli se vuoi, ma ormai ha smesso di cercare un evo di fuga. Meglio così. Vive su in quell'edificio con l'insegna neon arancione. I nostri antenati, i malleabili, ci hanno lasciato questa città. La nostra casa è un loro lascito. Ma Roma, che tristezza. Hanno preso tipo tutti quanti gli android e li hanno chiusi qua sotto. Proprio nelle profondità di una città circondata da delle mura gigantesche. Perché magari erano diventati troppo autosufficienti. E quindi li hanno mandati qua su affinché non rompessero più le balle. Non lo so. Però mi struscio perché sei carino. Ispezione ha spartito. Raffinatissima creazione artistica di un compositore rinomato. Il cui nome è Rick Astley. Entra qua. Non credo che questo sia il patito di tecnologia. Questo mi sembra più il nerd di gruppo. Ehi Doc, ho trovato le chiavi della tua cassaforte. Ti conviene starci più attento. Molto gentile per aver lasciato le chiavi al Doc che poi è schiattato. Aha! Usa cassaforte? Cosa abbiamo qua dentro? Uno strano tacquino con sopra un simbolo. Sembra appartenere a un certo Doc. Dopo settimane di ricerche ho assemblato uno spettrometro e una potente lampada UV. Con questo dovremo riuscire a respingere gli Zurk durante la nostra fuga. Cerchiamo Momo. Sapete cosa? Sono molto umani come alloggi. Nel senso che se io fossi un androide forse non me ne fregherebbe assolutamente niente di star qui. Non patisci il freddo, non patisci il caldo. Tu ci sei e basta. Non so come dire. Tacquino di Clementine. Who the fuck is Clementine? Va tutto secondo i piani. Siamo riusciti a contattare il livello superiore prima che il dice trasmettitore si guastasse. Si trovano in un luogo chiamato Infracittà che a quanto pare è sottoposto ad un qualche regime oppressivo. Prima ho parlato con Momo. I suoi occhi. Conosco quello sguardo. Non verrà con noi. Dovremmo andare da quel Momo. Eh sì. Mi sa che c'è gente che ha provato a uscire. Gente androidi. Fallendo però miseramente. Momo abita lì. Momo è una persona confusa. Decisamente confusa. Che non ha neanche notato la nostra presenza. Non funzionerà mai. Perché li ho lasciati partire? Adesso sono tutto solo. Ehi tu cosa vuoi? Ciao Momo. Guarda la cartolina. È una foto dell'oltre? È lì che puoi andare? Beh in tal caso non disturbarti. È una perdita di tempo. Non porta altro che solitudine e disperazione. I miei amici covavano il tuo stesso sogno sai. Adesso loro sono scomparsi e io sono rimasto solo. Non so dove siano finiti. Ho provato a contattarli ma quel p***o di riccio trasmettitore non funziona. Io e i miei amici tenevamo dei risoconti delle nostre ricerche sull'oltre. Tieni. Prendi il mio. Se hai tutta questa voglia di andarci, ranzete. Tacquino di Momo uno di quattro. Ok. Il motto degli oltraggiosi. Dobbiamo andare oltre ad ogni costo. Dobbiamo proteggere i nostri fratelli e sorelle. Dobbiamo restare alla larga degli Ezzurk. È firmato da Clementine, Zbazaltar, Doc e Momo. Zbaltazar. Credo che dobbiamo trovare gli altri tacquini. Terra. La Terra è il terzo pianeta più vicino al Sole e il quinto in ordine di massa e diametro all'interno del Sistema Solare. Ad oggi si tratta dell'unico corpo celeste conosciuto in grado di ospitare la vita. Stando alla notazione radiometrica, la Terra ha circa 4,54 miliardi di anni. Quindi in questo momento siamo qualche anno più avanti rispetto ai giorni nostri e siamo effettivamente sulla Terra. Allora, ho quello di Doc, ho quello di Clementine e ho quello di Momo. È vero, mi manca quello di Zbaltazar. L'ultimo tacquino, finalmente. Sembra appartenere ad un certo Zbaltazar. Ogni traccia di organismi viventi è considerata scomparsa, ad eccezione dei cosiddetti Zork. A quanto pare divorano qualsiasi cosa si muova e si riproducono ad un ritmo inimmaginabile. Sono tipo i topi di A Plague Tale, sono letteralmente loro. Questo appunto dice... Ho trovato una falla nella progettazione del ricetrasmettitore, ma credo di aver capito come rimediare. Ecco l'equazione. Con questo dovremo poter aiutare Momo. Ok, torniamo subito. Momo! Momo! Ti posso aiutarti! Momo! Aspetta, hai davvero trovato i tacquini di tutti i miei amici? Eh? Cos'è quello appunto? Il ricetrasmettitore può essere riparato? Porca troia! Ciò significa che dovremo riuscire a comunicare con chi è al di fuori dei bassi fondi. Clementine, Zbaltazar, Doc, mi spiace di aver dubitato della nostra causa. Ve lo prometto, troverò un modo di arrivare in superficie. Ti ringrazio. Forse troveremo un modo di raggiungere i livelli superiori. Adesso ripariamo questo catorcio di ricetrasmettitore. Voilà. Quello è palesemente uno snesco, comunque. Et voilà! Funziona! Vieni con me! Dove? Perché? Mamma, mi dice di non seguire i folli con un trench. Vedi quell'edificio che svetta sugli altri? In realtà no, però ok. Se installi il liceo trasmettitore sul punto più alto della torre dovremo poter comunicare con l'intera città. Ah, yes! La stanza più remota della torre più alta. Sei l'unico abbastanza minuto e svelto da poter eludire gli Zurk. Abbiamo bisogno di te, piccolo oltreggioso. Portaci sul tetto del mondo. Ok, fra, ma io sono qua soltanto per... Oh, palla! 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 Là in cima! Oh, ma roh! Ma come ci arrivo io adesso? Sui tetti! Oh no! Ci sono gli Zurk! Fatemi fare le unghie così li caccio via facilmente. Bro, che cosa macabra! C'è solo un braccio! Frate, miagola per attirare i nemici? Eeeh! Fregati! Stupidi! Ah, sono stupido io che non corro! Ma roh, ma che schifo! Ma quanto fa della stovasta a parte? Dove sono i clicker? Alla Neko Corp si occupavano dello smaltimento dei rifiuti. Quando la spazzatura dei livelli superiori cominciò a subissare i bassi fondi, provarono a sviluppare un batterio in grado di dissolverla. Dopo l'estinzione della razza umana, il batterio mutò. Crebbe, divorando molto più che la spazzatura. E così, adesso, abbiamo gli Zurk. Mh, bello schifo. Cari Zurk, potreste gentilmente levarvi dali coglioni? Grazie per essere morti. Thank you very much. Siamo in cima? No, col cazzo proprio che siamo in cima. Siamo quasi in cima. Madonna, ma che sta qua è tutta quanto è una copertura? È un gigantesco coperchio, quello. Ci siamo. Piazza riccio trasmettitore su questa antenna. Ok, fra. Uso oggetto. Oh, ma quindi, scusatemi, quella lì è la città di mezzo, quella di cui parlavano prima. Quella che si vede adesso sullo sfondo con i vari cartelloni pubblicitari. Quelle lì sembrano stelle, ma sono soltanto delle luci che segnalano l'invalicabile tetto a chiusura della città. L'umanità costruì questo rifugio per proteggersi dall'oltre, ma il prezzo da pagare fu salatissimo. Nessuno poteva uscire. L'oltre era un disastro, del tutto arido, inabitabile e pericoloso. Ma se è da lì che provieni, significa che è di nuovo sicuro. E la mia promessa non era semplicemente di raggiungere l'oltre, era di spalancare la città. Ancora non capisco come mai alcuni ricordi mi stanno tornando e altri no. Ma sono certo che da adesso questo è il mio scopo. Forza, torniamo indietro e troviamo Momo. Avendo collegato l'elice trasmettitore, dovremo essere in grado di ottenere aiuto. I bassi fondi, seconda parte. Ehi, pallina di pelo! Vieni, sono riuscito ad intercettare un segnale. Ciao Momo, aspetta che salgo qui, eh. Che carini che sono quei due. Vediamo se mi ricordo ancora come si fa. Alla Michael Jordan, proprio. Momo? Sbalza Zara, sono così felice di sentire la tua voce. Dove sei? Gli altri stanno bene? Sì, siamo al sicuro. Siamo riusciti a salire. Pronto? Mi senti ancora? Devi passare dalle fogne per raggiungerci. Molto pericoloso. Zurk dappertutto. E niente, è saltato tutto. Vabbè. Scemus! Grande Scemus! Non ce la farete mai ad attraversare le fogne. Pullulano di Zurk. Vi spazzolerebbero via in un istante. Vale soprattutto per te, piccoletto, sai? Molti hanno tentato la fortuna in passato e non finisce mai bene. Comunque, io vi ho avvisati. Gli affari vostri non sono affari miei. Legittimo. Grazie, Scemus. Alla prossima. Doc, suo padre, un tempo era un grande scienziato. Stava lavorando a una nuova arma per combattere gli Zurk. Qualche anno fa è partito per collaudare il dispositivo, ma non ha più fatto ritorno. Da allora Scemus non è più stato lo stesso. Gatto? Non dare retta, Scemus. È solo spaventato, così come lo ero io. Se Doc ha costruito un'arma, è il nostro biglietto per raggiungere gli oltreggiosi. Nei suoi appunti, Doc ha accennato un paio di volte a un laboratorio segreto. Deve essere lì che lavorava al progetto. Potrebbe esserci un indizio nell'appartamento di Scemus. Forza, seguimi. Come fa ad essere suo padre? In effetti è vero. Fanno sesso gli androidi? O semplicemente ne costruiscono uno più piccolo e lo fanno crescere? Non ho idea. Oh, Sce. Che ci fai qui? Te l'ho già detto. Attraversare le fogne è una missione suicida. Lasciami in pace. Ah, non si ti do il tacquino di papà. Cos'è questo? Aspetta. È di mio padre? Ah, ci picchia. Chi se l'aspettava? C'è una stanza segreta nel nostro appartamento, ma dove? Cioè, non lo sa neanche lui. Testa di cazzo. Oh no, devo tirare giù tutti i quadri adesso. Quale sarà quello giusto? Ah, e lì ci sarà il codice? Ah, il tempo ci dirà. That's not what I was expecting. Non avevo mai notato quel tastierino elettronico. Come cazzo mi è potuto sfuggirmi? Ignoro quale possa essere la password, sai? In effetti ci sono quattro orologi lì in cima. Però vedete, già il primo segna 16. A meno che non sia l'arancetta delle ore. Quindi 2, 5, 1, 1. Ah. Ah, non avevo mai visto questa stanza. Incredibile che sia riuscito a nascondermela per tutto questo tempo. Questi progetti devono riferirsi alla sua arma anti-zurk. Papà è sempre stato molto geloso del suo lavoro. Mi disse che l'arma funzionava sulla carta, ma che serviva un collaudo sul campo. Se funziona sulla carta non è detto che funzioni anche sugli zurk, eh. Sono proprio fatti in maniera diversa a livello genetico. Un localizzatore guasto. Aspetta, mi è familiare? Il suo localizzatore? Papà lo usava sempre per tenere d'occhio i miei spostamenti. Forse possiamo invertirle e scoprire dove è andato. Ah, non riesco a credere che papà potrebbe essere ancora vivo. Mi manca tantissimo. Ti serve un'arma contro gli zurk, giusto? Papà ne aveva indubbiamente una con sé. Dobbiamo soltanto riparare il localizzatore così da poterlo ritracciare. I bassi fondi deve esserci qualcuno disposto ad aiutarci. Vieni, ti aprirò la porta. Ah, ci picchia. È un ottimo localizzatore. Riconosco il modello. Un Tohima Brr2000. Può ritracciare chiunque con questo aggeggino. Permetti? Aha. Ehi, abbiamo un riscontro. Papà è veramente vivo? Non ci posso credere. Seguiamo il localizzatore. Forse scopriremo dove è andato papà. Ci siamo. Ha davvero lasciato i bassi fondi. La fuori è pericolosa, ma devo averne la certezza. Devo sapere. Guarda quante uova di zurk. Ci divoreranno. Non posso farcela. Non sono veloce come te. Gli zurk mi beccheranno di sicuro. Tieni, prendi questa spilla. Il mio papà la riconoscerà. Capirà che sei un amico. Ok. Ecco, tieni. Ti aprirò la porta. Addio, Shea. Alla prossima. Vicolo cieco. Ok, non si torna indietro da qua. Corri! Corri come se non ci fosse un domani. Maple, sei un tipo tostissimo. Maple! Oh no. Vitamina. Vitamina ti devi svegliare. Immediatamente accende la luce. Oi, stai bene? Hai fatto un bel capitombolo. Doc dovrebbe essere nei paraggi. Ci siamo quasi. Povero miccio. Ok, ora si è ripreso. La magia dei gatti. Non capisco dove potrebbe essere il pezzo che stiamo cercando. Vaffanculo. Non avevo notato la finestra. Uh, bel tappeto. Sarebbe un peccato se qualcuno ci si facesse le unghie sopra. Questa è casa di Doc. 100-100. Quello è Doc! Rodemo! Oh, scusa, scusa, scusa. Un attimo, tu? Chi cazzo sei? Hey, hai addosso la mia spilla. Come l'hai trovata? È stato mio figlio a mandarti? Oh, scemo, spiccolo genietto! È un'eternità che sono qui da solo. Ero venuto a collaudare il mio defluxor, ma non è andata secondo i piani. Vorrei tanto tornare a casa. Mio figlio mi manca moltissimo. Puoi farti un giro per la casa se vuoi, ma non ho idea di come farti fuggire da qui. Ok, Doc. Per nulla è ispirato alla figura di Doc di Ritorno al Futuro. Questa è la pistolona. Ehi, 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 fa piano con quel defluxor, eh. Al massimo della carica può ridurre uno zurca a esplosioni di scoriandoli. A questo ragazzone servono 1.21 gigowatt per funzionare. E l'unico apparecchio nei paraggi con tanta botta di vita è il generatore all'esterno della casa. Il problema è che non si avvia, sai? Credo che sia saltato un fusibile. E con tutti gli zur che girano, per me è troppo pericoloso uscire a ripararlo. Però posso farlo io. Vai di fusibile. E ora corri. Corri come se non ci fosse un fottuto domani. Da dove stanno per arrivare? Ah, da ovunque. Finestre. Pareti. Figata. Fra, quindi se io mi metto nel raggio viola non mi succede niente. Doc, sei il migliore. Doc, 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 doc. Doc, seguimi. Doc, seguimi. Grazie, Doc. Devo accompagnare Doc adesso. Vai, Fra, alza tutto. Prego, eh. Ci penso io. Riunione di famiglia. Padre e figlio. Che si riappacificano. Ma il figlio sì. No, ok. Il figlio si lascia andare all'emozione. Che carino. Grazie di aver salvato Doc, piccolo amico. È fantastico sapere che Shemus non è più solo. Adesso sappiamo di poter rispondere agli attacchi degli zurc. Momo ti sta aspettando nei pressi delle fogne. Ok. Sì, regà, è palesemente una citazione a ritorno al futuro, comunque. Doc sembra Doc di ritorno al futuro e Marty è meglio. E Shemus sembra Marty. Momo ti aspetta nelle fogne per aiutarti con il resto del viaggio. Ok, andiamo da Momo. Le fogne. Ah, il mio canale YouTube, quindi. Ho fatto la battuta. Aspetta, aspetta, aspetta. Veri fanni. Nyeh, non posso accompagnarti ma continuerò a cercare una via d'uscita. Quando troverai sbaltazzare Clementine di loro che sono stato coraggioso. Sei un coglione. E va bene, andiamo a trovare Clementine e sbaltazzarro. Marò che schifezza, eew. Eew, ma si muove. Vomito tantissimo. Fra, ho una brutta notizia. Quella non è pizza. Chiedilo alla pizia perché mi guardano. Io gioco da qua. Che gioco è? Scala 40 online. Ma in che cazzo di postacci mi sto infilando? Per piacere. Marò. Che schifo. Marò, ci passo di lato senza guardare. Non posso, c'è la cutscene. Devo guardare per forza. Dimmi, vitamina. Adesso dice O. Eeeh, maple. Abbiamo un problema. Bravo, vitamina. No, maple! È morto. È morto for good. Bravo, vitamina. Corri. Corri col robottino in tasca. Veloce. Corri come il vento. Bulsai. Via, 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 via. Dritto per dritto. Non fare neanche una singola deviazione. Corri dritto e basta. Veloce. Stato di uno mi saltano addosso dalle fottute pareti. Destra, sinistra, 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 sinistra. Li ho fregati. Non li ho fregati. Mi hanno fregato loro. Vai, 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 vai. Entra in scivolata. Ah, vitamina. Che c'è bisogno di un po' di vitamina C. Eh, sei ripreso. Grande. Era buio. Ero solo. Sembrava di essere tornato nella rete. Ma tu mi hai salvato. Grazie, amico mio. Attingere a tanta elettricità ha messo a dura prova il mio processore. Il defluxo era completamente distrutto. Dovremmo fare attenzione. E certo, perché fammi fare una missione in cui recuperi l'arma potente per poi mettertela nel culo? Hello? Baladin. Ah, proprio il mio videogioco preferito. Baladin. Sbalta, zar l'oltreggioso ti sta aspettando. E a meditare in cima al villaggio. Billantenna. Eh, sì. Stragattico. Non posso dire stratopico, che se no è un casino. Questo macchinario. Lo scienziato che assistevo ne aveva uno simile. Era malato e questa era la sua ultima speranza. È entrato nel macchinario. Ma io non ero con lui. Era solo. Cosa stava facendo? Si è trasferito all'interno del computer e poi tutto è cambiato, ma con il trasferimento qualcosa è stato storto. È rimasto bloccato per centinaia di anni. Il tutto fino alla comparsa di un micio. Possibile? Ero io. Ero io lo scienziato. Ah! Ha trasferito la propria memoria all'interno del robottino, in modo tale di fatto di rimanere immortale e doveva semplicemente aspettare che qualcuno lo risvegliasse. Vabbè, Fra, se vuoi vedere il tuo cadavere, là dentro lo apriamo, cioè il modo. Io ero umano. Mi serve un istante. Sti qua stanno giocando a Mahjong. Diamo di fastidio. Ah, che bello essere gatti. Sei troppo carino per essere punito. Hey, non sapete che non bisogna mai interrompere la meditazione trascendentale altrui? Oh, ma sei tu. Prima eri con Momo quando abbiamo ricevuto la chiamata. Lieto di incontrarti finalmente, piccolo oltreggioso. Momo è rimasto nei bassi fondi. Ho sentito che hai collaborato al ritrovamento di Doc. Clementine al momento si trova nell'infracittà. Se vuoi ancora vedere l'oltre, lei è la sola a poterti ci può indurre. A quanto pare ha una specie di piano per lasciare la città. Clementine. Eh, vabbè, raggiungiamola allora. Prendi questa. Ho scritto il suo indirizzo sul retro della foto. Grazie, Sbaltazar. Molto gentile. Mi chiamano tutti Chef Lattavacciuolo. Specializzato nel ricondizionamento degli avanzi. Chef Lattavacciuolo. Adoro il profumo di vernice fresca. Mi fa pensare, oh, aspetta, non possiedo l'olfatto. Frate, guarda, è una stazione della metro, quindi siamo davvero vicinissimi alla superficie. Avevo completamente dimenticato dell'esistenza di un simile mezzo di trasporto. Potevi raggiungere qualsiasi punto della città, sai? La mia famiglia voleva vedere l'oltre, ma ormai ha importanza. Che ne è stato di loro? Cosa ne è stato di tutti? Fra, in parole povere, sono schiattati. Ehi, è la prima volta che vedo un robot di questo tipo. Sei tutto pelosetto. Ciao, fra, conosci Clementine? Ah, è la ragazza che compare sullo schermo di ricercati, giusto? Cosa? Dovresti chiedere a qualcun altro. Ho troppo da fare con Josh per saperne qualcosa. Come lo schermo dei ricercati? Agente di pace 22106. Dichiarare la propria identità. Collabora o sarà necessario trasferirti in carcere e riavviarti. Se vuoi trovare Clementine, sono certo che si nasconde nel condominio. Grazie per averlo detto alla polizia. Clementine è venuta qui una volta. Come mai ti interessa? Cioè, si utilizza sul retro. Una volta uscita il negozio, il condominio è proprio a destra. Questo è il condominio. Aspetta. Aha, guarda il simbolo. Se vedete, i due simboli corrispondono. Quindi siamo effettivamente arrivati al condominio giusto. Ora cos'è? Terzo piano porta 5, quinto piano porta 3? Una delle due cose? Andiamo a cercare una risposta. Ok, 3 indica il piano, ovviamente. E qua da qualche parte. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Ovviamente l'unica con la fessura, no? Dove, 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 Clemmi? Eeeh! Mi son cacato, maledetta. Chi cazzo sei, gattaccio? Frena. Quindi Sbalta Zara ha finalmente deciso di mandare qualcuso? Di qualcuso? Vabbè. Ehi, immagino tu sei la mia nuova recluta. Hmm, non sei molto imponente. Come caspita hai fatto nelle fogne? Devi essere pieno di risorse. Sto cercando una strada verso l'oltre da quando ho lasciato Villantenna, ma le sentinelle sono sempre sul chi vive. Ora che sei qui però, puoi aiutarmi. Seguimi. È da un po' che sto escogitando un modo di utilizzare questo vecchio treno metropolitano. Ho persino le chiavi per avviarlo. Ci serve soltanto una batteria atomica per farlo partire. So che la Neko Corporation ne ha una sotto chiave allo stabilimento. Ho un contatto che può farci infiltrare tra di loro, se vuoi. Non conosco il suo nome, ma è il robot con il giubbotto e la catena dorata. È il gangster, ok. È una vita che aspetto che tu placchè torni ad aiutarmi con il rifornimento di questi cappelli. Il capo non è contento. Ah, è lui. Buongiorno, principessa. Ora posso farmi portare dentro. Lui. È lui. Ah, conosci il mio contatto, vedo. La batteria atomica alimenta lo stabilimento della Neko Corp laggiù. Ma l'intera area è interdetta e rigorosamente sorvegliata. Controllano ogni persona in entrata e mandano via chiunque non sia un dipendente. Procurami un gilet da operaio e un casco antinfortunio. E io resterò qui a capire il momento migliore per entrare. Va bene, Fra. Tipo qua posso sicuramente ottenere il gilet da operaio. No, no, col cavolo che lo rubi, ok? Qui sicuramente devo inserire un cd o whatever per attivare il tutto e distrarre quindi il tipo. Mentre da qua posso ciurare facilmente il caschetto. Easy. Afferra musicassetta. Grazie per la cassetta, bro. Allora, negozio di vestiti. Infiliamo la musicassetta nel jukebox, ecco. Marò che fastidio alle orecchie. Te prego. Che musica di merda si ascolta. Mamma mia. Fuggi, fuggi, gatto. Uè, Capitan Blazer, tieni qua, ho ottenuto tutto. Sono perfetti. Il gilet va un po' stretto in vita, ma vabbè, andrà benone. D'accordo, salda in questa scatola e ti traghetterò oltre i controlli. Let's go. Ora si va proprio a Nerkia Marmorea. Turgida e rigida. Che cazzo. Non mi prenderete mai! Bastardi! Succhiami le palle! Ha ha, stupido! Ops. Ha 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 ha! Ero convinto che proprio per una questione di game design non mi potesse uccidere se avevo superato lo stage. E invece... Ciao Fra, capiti a fagiolo. Forse puoi aiutarmi. Ho perso le chiavi di casa in questione di fabbrica buia. Le sentinelle si sono rifiutate di aiutarmi. Mi hanno risposto senza casa uguale più lavoro qui. Pro, un vero capitalismo momento. Se per caso potessi aiutarmi a trovare te ne sarei eternamente gatto. Ok. Ehm... Sì, non credo che lo farò. Vabbè, ma questa poi è easy. Guarda, vai così e rotola. Oh, 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 ga... Ma a parte che c'è... Ah no, ha perfettamente senso invece. Prendi la batteria. Ciulata. E giustamente c'è il sistema d'allarme, no? Svelto, usciamo da qui prima che sbuchino le sentinelle. Corri! Non da questo lato, è chiuso! Ah ah! È il lato più sbagliato. Ah, ma sono tornato già in città. Ma è stato così facile? E vabbè, ma che easy. Mamma mia, proprio come le discoteche vere. Semplicemente con meno gente in generale e meno gente ubriaca. Wait, perché ho in bocca un vinile ora? Posso scratchare? DJ Gato! Oh merda. Eh, hanno beccato Clementine. Posso dirti che sei un robot, quindi anche se ti imbavagliano teoricamente... Vabbè, comunque. Non sei furbo quanto sembri micetto. Ha fatto il doppio giochista bastardo figlio di Troia! Maledetto Capitan Blazer! Cioè, non lo youtuber. Qual personaggio? Povero Capitan Blazer che ha fatto lui di male. Sai, per me è... Il denaro viene prima di qualsiasi amicizia o spirito di gruppo. Sono tutti vostri. Chi? Cosa? Come? Ah, parlava con... Con i droni, non capivo. Che mi hanno sparato a Maple, così. Fine gioco. No bro, sono in prigione. Senza abitudici. Senza la mia vitamina. Amore. Come usciamo da qui? Aspetta. Ah. Non credo che tu con così poco movimento riesca a generare tutto questo momentum per poi... Aprire la gabbia e uscire? Sì, no, irrealistico. Cioè, fisicamente non ha senso, ciò che ho appena visto, ma lo accetto comunque. Ah, Gato is libero. Gato is free. Gato is still nella prigione. Ok, no bueno. Clementine! Ciao broski, che succede? Oh, le chiavi. Aspetta, mo', eh, arrivo. Ci arrivo in un attimo, eh. Tieni, bro. Vai. Siamo liberi, bro. Di qua, di qua, di qua, di qua. Di qua, di qua, di qua. Testa di cazzo! Eh, Clementine. E diamoci una mossa, eh. Ma non c'è un lucchetto lì. Ma non c'era niente! Ma vitamina in tutto questo? Merda, ecco la vitamina. Stanno reverse engineeringando il robottino. Ok, cercheremo di salvarlo. Posso dire che da gatto credo che di vitamina me ne sarebbe fregato poco o niente. È un sentimento molto umano, quello che sto vedendo. Che non ha senso né per un gatto né per un robot. E voi direte, ti armi, è questo il bello del gioco. Io vi dirò, ci avete ragione. Che ne hai due dei jumpy? Che ne hai due a hoppala? No, niente hoppala sul posto. Ma posso fare hoppala così. Non so se sia questa la cosa da tirare, ma lo faccio. L'ho fatto! Ho liberato vitamina! Ah, ora sono tutti in allerta, quindi se mi sgamano, sparano subito. Ok, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Maro! Oh, non so chi, ma qualcuno qua ci muore, non può esserci un good ending così grosso. Questa porta è l'unica vedo uscita dalla prigione. Credo che si possa aprire dalla sala comandi laggiù. Dobbiamo riuscire ed accedervi però. Guardiamoci intorno. Arredamento un po' scarso, ma va bene uguale. Ui, chiavi? E vai, hanno lasciato le chiavi nella serratura. Balza sul retro del furgone. Dovresti riuscire a saltare oltre la recensione e accedere all'area di controllo. A spingerlo? È un ape car vuoto. Vuoi dirmi che non riesce a spingerlo a mano? Io ho la netta sensazione che ora ce la beccheremo nel turbo culo. Perché hai fatto il suono da papera? Eccola. Eccola, lo sapevo. Ora dobbiamo uscire e scappare. Bastarda! Clementine! Clementine! Molla un attimo il piede dell'acceleratore. Ok. Maro! Oh no, questo è filmato. Questa è una letterale cutscene. Una folle, una pazza. Dai che riusciamo a passare la barriera. Dai che riusciamo ad arrivare all'ascensore. Su, 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 su. Non ce la faremo a scappare tutti con le sentinelle e le calcagna. Posso tenerle occupate per un po', ma tu devi andare. Oltreggiosi recita. Dobbiamo andare oltre ad ogni costo. L'ho scritto io. Sei uno dei nostri adesso. Non è detto che tutti raggiungano l'oltre, ma almeno uno di noi deve farlo. Ora va. Ti servirò nella mia RAM, piccolo oltreggioso. Clementine, è stato un onore conoscerti. Grazie per il tuo sacrificio. Uso oggetto, è vero la batteria. E ora posso infilare la chiave nella fottuta metropolitana. Bene. Madò, che bella. La metro gialla di Milano. Dove stiamo andando? A San Babila. No, cos'è che c'è sulla gialla? C'è Duomo. Sala comando. Romarò. Linea, 14. Due madonne. Grazie mille. Giuro che due madonne non è tipo inteso come bestie, ma è proprio una località di Bologna. Ogni volta che sono in giro vedo il 14 passare con la scritta due madonne tra me e me checco di brutto. Città sigillata. Salve abitante della città murata 99. Questa porta che dà la superficie è sbarrata a causa della procedura di quarantena. Rivolgersi a uno degli ingegneri, bla bla bla, va bene. Tiè, strappa tutto, strappa tutto, rompi. E certo, è il modo migliore per poter far smettere di funzionare due di quanti questi sistemi. Certo, non è che scatta l'allarme, no? Per niente. Funziona esattamente così. È la sala comandi dell'intera città. Controllavano tutto da qui e non c'è nessuno. Ricordo di averli odiati a morte. Avevano tutto. Spazi puliti, elettricità illimitata, libertà di movimento e... Guarda cosa è servito. L'epidemia. Adesso dico... È colpa del covid? Ho visto la mia famiglia morire. Mi sono sentito impotente e non ho potuto fare niente per salvarli. Ma posso ancora aiutare te. Possiamo andare ancora oltre. Insieme. Ci siamo. Il computer centrale. Stando al mainframe, nessuno viene qui da anni. L'intera città è bloccata in un eterno ciclo di isolamento iniziato molto tempo fa. E se lo disattiviamo, dovremo essere in grado di uscire. Ci toccherà riportare il resto di questi sistemi online, però, prima. Ah, ho capito. Devo toccare le tastiere di tutti quelli spenti e non toccare quelle di quelli accesi, ok? Ok, qua, pop, pop, e poi bop, e infine le bop. Ha funzionato, ottimo lavoro, amicio mio. So come spalancare la città, ma qualcosa non va. Vai, achera, achera. Non avevo visto che c'era anche il tasto achera. Va bene, uno è andato, ma si è un po' fritto B12. Sapevo io. Palese, palese che sarebbe successo. Dobbiamo continuare. Comunque vitamina sta per schiattarci, io ve lo dico, eh. Vitamina è un'altra che si sacrifica. Immaginavo. B12 è stato un piacere conoscerti. Oh no, credo che questo corpicino sia bello che è andato. È tutto ok, starò bene. Portami la postazione, almeno possiamo disattivare l'allarme. Vitamina, sei stato un grande compagno. Fatto, siamo al sicuro. Ascolta, c'è una cosa che devo dirti. Sapevo che l'energia necessaria di disattivare il sistema di sicurezza della città sarebbe stata immensa. Più di quanta questa drone avrebbe potuto gestirne, ecco. Ma con la sorveglianza fuori gioco posso assumere il controllo del sistema e spalancare la città. Infiltrandomi del sistema potrei distruggere il mio software, ma... È una decisione che ho preso quando mi sono collegato a quel primo computer, accettando le conseguenze che avrebbe implicato. Mi dispiace che non vedremo l'oltre insieme. Pensavo di dover preservare i ricordi dell'umanità, mantenere un legame con il passato, ma... Nei compagni io scorgo il futuro. E anche in te. Sei stato un amico. Il migliore che avessi potuto desiderare. Grazie. Vitamina? Grazie per il tuo sacrificio. Mi godrò il sole per te. Ma io me lo porterei via come giocattolo. Amore. Signori, abbiamo compiuto l'atto. Si sta aprendo il tetto. Stiamo mostrando la luce del sole per la prima volta a tutti questi robot. E conseguentemente anche gli Zurk schiatteranno, mi viene da pensare. Eh sì, hai visto, Momo? Ce l'ho fatta. Oh, c'è anche Doc e Marty. Dov'è il fattore che suona? Lui era del mio prefe. Clement ha intendato di chiappe, posso dirtelo. Ma di giga chiappe. Vitamina è stato un piacere. Ma ora devo andare. Merda, guarda che bella però. Cioè, lascia perdere le pareti di cemento proprio brutalistiche. Ma guarda che bella che è. Che figata. Siamo al 45%. Io non mi muovo da qua. Continuo a guardare giù. Quella è l'antenna dove siamo stati la prima volta. Questa è l'infracittà. E quella zona lì che vedete con tutti quanti i vari cartelloni pubblicitari colati sono... Sono il centro della città. Pensa che brutto sarebbe stato aprire il tetto e beccarsi la pioggia. La città è stata ufficialmente riaperta. Vitamina? Il tuo sacrificio non verrà mai dimenticato. Addios. Fra, Gesù, grazie per aver aperto la porta. No, no, grazie a te. Amen, fratello. Signori, ce l'abbiamo fatta. Siamo... Siamo riusciti a fare la scalata e risalire. Ma che belli i gatti che si cotono l'aria fresca e il sole. Sono bellissimi. Che patatino. Ah, yes. Bello. Mi è piaciuto proprio tanto come gioco. Mi è piaciuto proprio tanto. I titoli così mi piacciono parecchio. Perché sono carini. Sono rilassanti. Gatti hanno una storia semplice che non vuole strafare fallendo miseramente in ciò che cerca di ottenere. Diciamo, dandosi degli obiettivi ben oltre quelle che sono le effettive possibilità che hanno. Caruccio. E poi c'è un gatto. Cosa vuoi di più della vita? C'è un gatto.